Sono Carlo Emanuele Giordana, faccio parte della società operaia di mutuo soccorso di Valdieri, sono consigliere del consiglio d'amministrazione della società operaia da qualche anno. La nostra società è stata fondata nel 1883, nel mese di aprile del 1883. Il nome completo della società include sia gli operai sia i contadini perché è la realtà da cui provengo. Il paese è un paesino adesso di meno di mille anime ma l'epoca in cui è stata fondata era molto più grande, aveva tutti più abitanti, era una realtà dove la maggior parte delle persone in realtà faceva il contadino e non l'operaio perché in realtà non c'erano grandi industrie nella zona. Nasce ovviamente nel 1883 proprio per aiutare queste persone, questi contadini che nel momento nel quale si trovavano ad avere un qualche problema, ad esempio un infortunio che talvolta poteva essere anche di una gravità tale da rendere impossibile di proseguire l'attività lavorativa, non fossero abbandonati a loro stessi o comunque all'aiuto delle famiglie ma potessero avere un sostegno da parte di un ente terzo. La società viene fondata appunto nel 1883 e tra i soci fondatori ci sono alcune delle persone più importanti dell'epoca del paese di Valdieri. La società non era l'unica esistente nella Valle Gesso, io infatti non sono di Valdieri, bensì sono del paese confinante con Valdieri che si chiama Dentracco e anche a Dentracco esistevano società di mutuo soccorso ed era abbastanza radicata la mutualità di questo genere, soprattutto alla fine dell'Ottocento nella nostra zona, nella Valle Gesso. Erano vicissitudini che non vi sto a raccontare a Dentracco e la società ha smesso di esistere negli anni Sessanta perché in quel periodo lo Stato era arrivato a svolgere una parte delle funzioni che in precedenza potevano essere svolte soltanto dalle società di mutuo soccorso. Quindi alcune società si sono perse per strada, possiamo dire. Quella di Valdieri questa fine non l'ha fatta e nel corso degli anni ha avuto modo di rinnovarsi e cambiare la tipologia di offerte e di servizi che riesce a fornire ai propri soci. Attualmente quest'anno festeggiamo i 140 anni della società. La società di Valdieri ha la fortuna di avere un importante patrimonio immobiliare che in parte è stato recentemente ristrutturato, infatti disponiamo di un bar, un ristorante e quattro camere che possono essere utilizzate a modi alberghetto. Questa struttura noi la diamo in gestione ad un gestore che corrisponde alla società un piccolo canone, ovviamente non una cifra gigantesca ma che è sufficiente per permettere di affrontare le spese ordinarie che ogni società di mutuo soccorso ha. Perché avendo un patrimonio immobiliare bisogna manutenerlo e questo ci permette quantomeno di non dover pensare a quelle spese che sono coperte dal canone che ci corrisponde il gestore. Invece con i soldi del tesseramento e con finanziamenti che riusciamo ad ottenere periodicamente o da persone che hanno un legame con la nostra società e ci hanno fatto il regalo di lasciarci dei lasciti anche importanti, questo nel corso dell'intera storia. Talvolta otteniamo anche finanziamenti da enti terzi come fondazioni bancarie o cose di questo genere e con questi finanziamenti riusciamo a fornire dei servizi ai nostri soci e nel corso degli anni abbiamo anche avuto la possibilità di ristrutturare il patrimonio immobiliare di cui disponiamo e di fatti la struttura di cui vi parlavo prima, cioè ristorante, bar e camere, è stato completamente ristrutturato e concluso nel 2020 grazie anche all'aiuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo che ha avuto un ruolo importantissimo nella possibilità di rimettere a nuovo la nostra struttura. Attualmente come servizi che forniamo i soci abbiamo la fortuna di avere all'interno del nostro consiglio di amministrazione una serie di professionisti, me incluso, quindi ciascuno di noi mette a disposizione dei soci le proprie capacità quantomeno per un inquadramento delle problematiche che ci possono essere in ambito legale, in ambito tecnico, in ambito comunicativo visivo o cose di questo genere. Inoltre seguendo un po' quella che è la strada di rinnovamento di tutte quante le società di mutuo soccorso stiamo cercando di fare quello che tendenzialmente adesso come adesso secondo noi le società dovrebbero fare, ovvero sia fornire servizi di sanità integrativa, in quanto la sfida attuale a nostro avviso è che mentre in passato lo Stato riusciva, per le risorse di cui disponeva, a fornire una sanità efficiente e funzionale nella maggior parte degli ambiti, attualmente purtroppo per motivi principalmente di budget tende a fornire soltanto più prestazioni di determinato tipo accantonandone altre, oppure in alcuni casi l'intervento eventuale della mutua statale è troppo lenta rispetto alle tempistiche che sarebbero necessarie per affrontare i problemi di salute che possono porsi. Quindi noi cerchiamo di, anche tramite la mutualità mediata, quindi fatta per il tramite di altre mutue più importanti e più grandi delle nostre e che fanno mutualità sanitaria in senso proprio a fornire ai nostri soci assistenza e sanità integrativa, quindi screening periodici per prevenzione in vari ambiti, oculistico oppure cardiocircolatorio, cose di questo genere, oppure anche la possibilità di andare in strutture private però convenzionate con la nostra società e per il tramite delle mutue sanitarie, con le mutue sanitarie a cui tendiamo a affiancarci per poter fare visite in queste strutture spendendo una cifra inferiore rispetto a quella che spenderebbero senza queste convenzioni e soprattutto per poter fare degli esami in tempi rapidi perché purtroppo alcune volte diventa anche fondamentale. Quindi diciamo prevenzione e la possibilità di avere l'accesso a strutture sanitarie private a prezzi calmierati che permettono la sostenibilità anche alle persone che magari hanno minori capacità economiche. Da ultimo poi grazie delle convenzioni che abbiamo a livello locale con l'azienda ospedaliera di Cuneo, Santa Croce Carle, la SL Cuneo 1, abbiamo la possibilità di far venire presso la nostra sede medici e infermieri qualificati ovviamente in determinati periodi dell'anno che fanno dell'attività di prevenzione direttamente a domicilio perché non sembra ma essendo la nostra una realtà molto decentrata specialmente per le persone anziane diventa difficile affrontare un viaggio magari per andare a fare una visita a Cuneo che è la realtà più grande rispetto al nostro alla nostra sede e avere la possibilità di far venire il medico e l'infermiere direttamente presso la nostra la nostra sede è un vantaggio gigantesco perché tante persone specialmente anziane che non farebbero il viaggio invece se devono fare 5 o 600 metri uscire di casa e venire da noi lo fanno e in passato abbiamo avuto anche la fortuna. All'epoca in cui è stata fondata il paese di Valdieri e la Valle Gesso dove si trova appunto Valdieri era una realtà prevalentemente contadina cioè la maggior parte delle persone svolgeva attività agricole principalmente quindi o faceva la terra come si usava dire oppure aveva allevava degli animali e molto radicata e molto presente era anche la tradizione specialmente per gli uomini di andare all'estero quindi solitamente in Francia in costa azzurra dove c'era lavoro e dalle nostre parti ce n'era molto poco nella stagione brutta quindi durante il periodo invernale quindi era estremamente frequente che gli uomini dei paesi della Valle Gesso trascorressero l'inverno lontano dalla Valle Gesso prevalentemente in paesi della costa azzurra dove c'erano molte più attività da svolgere c'era la possibilità di accimolare qualche soldino che poi faceva comodo per il resto dell'anno durante invece la stagione diciamo buona c'era sicuramente l'agricoltura da andare avanti quindi principalmente coltivazione di segale o cose di questo genere in realtà l'industria a fine ottocento nella Valle Gesso non esisteva esistevano magari dei piccoli dei piccoli opifici più che altro erano magari artigiani che realizzavano le classiche attività quindi falegnami fabbri o cose di questo genere che però davano un minimo di lavoro di fatti sebbene sia stata fondata nel 1883 nel proprio nome la nostra società operaia ha il riferimento sia agli operai sia ai contadini quindi vuol dire che racchiudeva già all'epoca entrambe le tipologie di lavoratori Il futuro della nostra società quello che teniamo particolarmente è che la nostra società abbia delle possibilità anche per il futuro riteniamo che ci sia uno spazio per le società di mutuo soccorso per il futuro a mio avviso quello che le società facevano nell'ottocento alla fine dell'ottocento può essere riproposto in chiave differente adesso e con tutti quei servizi di cui ho parlato quindi in ambito di sanità integrativa e tante altre cose per questo motivo quello che cerchiamo di fare a livello locale sulla nostra realtà della valle della valle gesso e quella di avvicinare i più giovani alla nostra società recentemente il nostro consiglio direttivo si è fortemente rinnovato con una presenza di amministratori che sono giovani come me o anche più di me perché non è che sono proprio giovanissimo e soprattutto finalmente anche con una parte di componente femminile che diciamo è difettata un po in passato e che ci permette di affrontare le problematiche anche con un'altra visione d'insieme che molto spesso gli uomini non hanno a differenza delle donne quindi quello che cerchiamo di fare anche quello di far conoscere alle nostre realtà locali ci siamo che abbiamo delle dei servizi da offrire delle possibilità per migliorare la vita di ciascun abitante delle nostre delle nostre comunità e devo ammettere che negli ultimi anni abbiamo avuto un riscontro importante perché di anno in anno i soci che hanno fatto per la prima volta la tessera sono sono aumentati attualmente abbiamo sembrano pochi ma in una realtà come la nostra sono tanti più di un centinaio di soci e abbiamo iniziato ad attrarre anche persone che non sono del nostro paese o meglio che non sono del paese dove si trova la nostra società perché nemmeno io sono del paese dove si trova la nostra società io arrivo da entraque sono stato coinvolto in questa in questa esperienza da un mio carissimo amico lui aveva un legame forte con la società anche per suoi motivi familiari perché diversi suoi parenti a partire dal suo papà che purtroppo non c'è più e altri suoi parenti zii e quant'altro hanno sempre avuto un ruolo attivo all'interno della della società di valdieri e questo può anche essere visto come un modo per portare avanti una una tradizione una realtà che esiste sulla 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 realtà territoriale della valle gesso da moltissimo tempo e che si spera possa durare ancora per moltissimi anni quindi il nostro la nostra idea è che quest'anno festeggiamo i 140 anni ma che fra altri 140 anni festeggeremo i 280 e così via la speranza è questa qua poi vedremo se ce la faremo di sicuro io non potrò verificarlo di persona però qualcun altro mio figlio qualche mio nipote per quanto riguarda invece la valle gesso e il paese di valdieri oggi è ovviamente completamente cambiata purtroppo non ci sono più gli abitanti che c'erano a fine ottocento anche perché a fine ottocento le famiglie per questioni di sopravvivenza erano estremamente numerose avevano a partire da cinque ad arrivare anche a dieci figli e ciascun figlio era una fonte di sostentamento specialmente per quelli che noi chiamavamo i vecchi perché quando una persona a fine ottocento diventava anziana se non aveva i propri figli o i nipoti che pensavano loro non poteva che soccombere ed è anche per questo che la nostra società è nata proprio per plire quelle carenze magari in quelle famiglie dove la persona era sfortunata e non aveva dei figli che potevano che potevano aiutarlo e seguirlo in epoca in epoca anziana attualmente le famiglie sono cambiate gli abitanti sono molti di meno c'è stato purtroppo un progressivo spopolamento della della nostra valle questo anche legato al fatto che con il seconda dopoguerra sono arrivate moltissime imprese in moltissime industrie nella bassa valle gesso e anche più lontano nella zona di cuneo e tantissimi tantissimi ragazzi prevalentemente giovani che hanno avuto la possibilità per la prima volta di andare a lavorare per otto ore al giorno e ricevere uno stipendio hanno scelto una via che sicuramente era più semplice ed era ed era anche meno meno complessa da sostenere perché non dobbiamo dimenticare che molte volte gli operai e i contadini che lavoravano nelle realtà locali della nostra valle magari lavoravano dal mattino alla sera per riuscire a malapena a mettersi una pagnotta e un piatto di minestra sul tavolo e quindi ovviamente attratti dalla possibilità di vivere più agiatamente rispetto alle condizioni di miseria in cui si trovavano nel loro paese hanno scelto di andare altrove quindi attualmente la popolazione della valle gesso è sicuramente una popolazione con un'età media molto più elevata e con molti meno bambini e giovani rispetto alla fine dell'ottocento però è anche vero che è presente forse un'inversione di tendenza recentemente forse anche legato al periodo pandemico molte persone che vivevano in città si sono rese conto che vivere in una realtà più lontana dal caos dalla frenesia anche se con meno servizi può essere un qualcosa di interessante di fatti negli ultimi negli ultimi anni diverse persone provenienti anche da città hanno deciso di trasferirsi nei nostri paesi della valle gesso dove sicuramente uno deve entrare in un'altra in un altro mood e viversi la vita più tranquillamente con tutti i disagi di questo mondo però è un modo di vivere secondo me più sereno più più tranquillo e allo stesso tempo comunque è possibile fare anche delle professioni lanciate nel ventunesimo secolo anche vivendo in un paesino della valle gesso perché comunque non siamo lontani dalla dalla civiltà quindi in questo momento la nostra società sta cercando di fornire dei servizi anche a questa nuova tipologia di di soci che non sono più soltanto i soci anziani che hanno sempre partecipato alla vita sociale della nostra società operaia ma anche soci giovani che nulla sanno del mutuo soccorso e che si avvicinano per la prima volta che molte volte rimangono anche colpiti della della storia che c'è alle spalle della nostra della nostra realtà cos'è il mutuo soccorso per me quello che il mutuo soccorso per me in realtà lo devo devo dire la verità l'ho imparato in questi anni di mia partecipazione all'interno della società operaia di mutuo soccorso di valdieri e l'ho imparato dalle persone che ho incontrato lì a partire da dall'amico che mi ha coinvolto in questa in questa esperienza arrivando al presidente della nostra società che è presidente ormai da moltissimi anni e che per lungo tempo ha dovuto fare tutto da solo o quasi con l'aiuto di poche persone però nella consapevolezza di fare qualcosa di importante per i soci della società e per tutta quanta la comunità di valdieri e della valle gesso il mutuo soccorso secondo me la volontà di aiutare il prossimo ed è questo il cuore del mutuo soccorso ed è immutato a mio avviso dalle primissime società che sono sorte nell'ottocento nella prima metà dell'ottocento subito dopo la promulgazione dello Stato d'Albertino fino fino ad oggi poi ovviamente il modo di aiutare il prossimo cambia a seconda di come cambia il mondo però il fulcro deve essere sempre e comunque quello nel nostro piccolo perché ovviamente la nostra è una realtà piccola abbiamo sempre cercato di mantenere quello come il nostro binario su cui su cui dobbiamo necessariamente correre con il nostro con il nostro treno e poi ci sono molteplici modi per aiutare il prossimo si può fare per l'appunto sanità integrativa si possono organizzare delle attività ad uso e consumo dei soci e dei membri della comunità come ad esempio abbiamo fatto quest'estate il cinema all'aperto che era una cosa che non si faceva da una vita e mezza sembrava una roba un po' anni 50 anni 60 invece durante l'estate abbiamo avuto veramente una marea di gente che è venuta a vedere film che ovviamente sono stati scelti con attenzione da parte nostra che avessero sempre come tematica di fondo la mutualità o comunque un legame con il nostro territorio quindi sottolineando le radici che ha la nostra società sulla realtà in cui insiste e permettendo in questo modo di far conoscere la nostra realtà a tante persone che magari frequentavano da moltissimo tempo il nostro paese o la valle gesso e nulla sapevano di quali erano le nostre attività aiutare il prossimo si può fare veramente in moltissimi in moltissimi modi noi cerchiamo di farlo di farlo nel modo migliore possibile e ognuno di noi membri del del consiglio d'amministrazione della della società di valdieri cerchiamo di dare e di porre a disposizione degli altri le idee per permettere questa questa tipologia di di aiuto per il prossimo e c'è da dire che non si smette mai di imparare nel senso che ad ogni riunione che facciamo scopriamo che esistono delle possibilità che non abbiamo mai esplorato e spesso facciamo anche un po' i copioni perché per imparare a dare dei servizi migliori ci guardiamo frequentemente intorno facendo rete grazie a tutte quelle entità che ci permettono di fare rete quindi per quanto riguarda la realtà nostra del cuneese abbiamo una consulta provinciale a livello regionale abbiamo un coordinamento regionale a livello nazionale esiste anche una federazione che raccoglie tutte le mutue storiche le mutue sanitarie la federazione italiana della mutualità integrativa volontaria abbiamo la possibilità di imparare e di migliorare sempre di più quindi l'importante secondo me per fare mutuo soccorso e avere sempre la mente aperta e avere l'umiltà di imparare dagli altri come si può aiutare e secondo me la cosa più importante per poter aiutare gli altri e ascoltare gli altri e di fatti abbiamo sempre dato grande attenzione a questo e la volontà di metterci a disposizione in prima persona come consiglieri per i nostri soci è proprio finalizzata quello perché ogni socio ha la possibilità di indicarci in quale ambito potremmo adoperarci maggiormente e quindi migliorare i nostri servizi noi cerchiamo sempre di fare del nostro meglio ovviamente tutto è migliorabile e noi cerchiamo di dare sempre il massimo